Ciao a tutti amici di CryptoGeme, benvenuti a un nuovo video, oggi andiamo a vedere un po' di analisi del mercato, torneremo a vedere anche un po' di cose macro e vediamo un po' lo stato della salute dell'economia in questo momento, ci avviciniamo verso il fine dell'anno quindi come sapete ottobre, dopo ottobre, novembre, dicembre assolutamente sono mesi verso gennaio, solitamente un po' più bullish dal punto di vista della strategia che usiamo quindi come sapete agosto, settembre erano i mesi peggiori secondo i dati come abbiamo fatto vedere, poi verso fine ottobre, novembre come abbiamo visto i mercati tengono duro non abbiamo visto un grande crollo come quello che pensavo, pensavo ci sarebbe stato un pullback un po' più aggressivo prima della ripresa, però la Fed ha iniettato liquidità sotto il banco e quindi abbiamo visto queste continue iniezioni di liquidità, lo stesso dalla Fed e abbiamo visto anche altre cose interessanti di cui andiamo a parlare, questo intanto era un trade di Tesla che stiamo seguendo piano piano, per il momento sta andando molto bene, andiamo a parlare comunque di BTC, quindi andiamo a programma di Bitcoin, Nasdaq e alcune altcoin quindi rimanete fino alla fine per sapere le altcoin di cui parliamo se siete interessati per quanto riguarda in questo momento alcune delle cose che volevo far vedere, c'è un dato che si chiama il consumer sentiment che vedrete ogni tanto uscire durante settimane più calde dove abbiamo le notizie ed ho visto questo dato interessante della JP Morgan che praticamente fa vedere come, e questa è una strategia che uso nelle crypto, faccio vedere anche nel corso come usarla, come quando comprare al sentiment negativo del consumer price è meglio che comprare nel sentiment positivo, quindi come vediamo per esempio se tu compri in un sentiment positivo il tuo ritorno è circa del 3.5% che è molto basso, invece se compri in un sentiment negativo solitamente hai un 24% e qua fa vedere praticamente ogni volta che il sentiment è negativo, come vedete questo è il ritorno sul mercato, guardate qui, ogni volta che questo è il sentiment, questo qua è nero, come vedete ogni volta che il sentiment è negativo il ritorno sul mercato è altissimo, ok? ogni volta che è positivo la maggior parte delle volte, a parte l'eccezione qui, però alcune volte come qui per esempio, qui, qui e come vedete un ritorno è molto basso, addirittura è negativo, quindi in questo momento vediamo un consumer sentiment abbastanza comunque alto e vabbè comunque è soltanto una cosa da vedere in più, come vedete ha pubblicato JP Morgan, quindi mi interessava farvi vedere anche voi, ovviamente poi giudicate voi con i vostri occhi. Sappiamo comunque quando c'è molta paura sull'economia, quando c'è molta paura nei mercati, i mercati tendono a fare un pullback e quindi dopo tendono a dare un sacco di soldi a chi ovviamente compra i dip, come per esempio quando il fear and greed index, fear and greed index è una di quelle cose che io uso molto spesso, che sono cose che tendo a guardare qual è il sentiment generale del mercato, quindi nelle criptovalute, per esempio il fear and greed index quando è molto alto tendo a prendere un po' di profitto, quindi quando dà grid o dà extra grid, quando dà super grid o extra grid, lì so già che ci sarà un pullback. Quando dà invece fear o extra fear, allora lì so che devo cominciare a cercare per delle entry ed è una tecnica, non dico che funziona tipo, non è una regola matematica, però comunque se ci costruisci dietro una strategia che conclude anche comunque price action fondamenta queste cose qua, riusci a fare molto bene sui mercati. Per quanto riguarda il VIX, sappiamo che il VIX è il nostro volatility index che solitamente verso il mercato, quindi se sale, il mercato scende e così via. Una cosa interessante che abbiamo visto, che non abbiamo visto in precedenza, è il fatto che quando per esempio ci sono delle banche rotte o ci sono dei credit spread, altre cose del genere, vediamo che entrambi salgono, quindi vuol dire che quando ci sono più banche rotte così, la gente ha più paura, il mercato scende, quella così. Questa volta, come vediamo, nel 2022, quindi dal 2022 qua, come abbiamo visto il VIX non ha performato a seconda di quello che faceva l'economia. Infatti, come dicevo, l'economia andava in una direzione, i mercati andavano in un'altra direzione. Poi abbiamo capito che dietro ci sono dei giochetti anche un po' di magia per questa situazione. Quindi, come vedete, anche qua i dati confermano che solitamente il VIX, come vedete, è strettamente correlato alle banche rotte, alle economie, le cose del genere che succedono. In questo caso, invece, come vedete, c'è stata una divergenza. Quindi abbiamo visto il livello di banche rotte altissimo, quindi si alza sempre di più, anche se è diminuito ultimamente, come vedete, c'è stata una diminuzione, che è una cosa buona. Il VIX comunque non ha seguito. Il VIX è rimasto basso, vuol dire che i mercati comunque non hanno mollato la presa. Poi, per quanto riguarda invece l'oro, che abbiamo visto salire, poi guarderemo anche l'oro. L'oro, come vediamo, c'è stato uno dei più grandi inflow da maggio, in questo caso, come vedete qui. Quindi molto interessante perché l'oro sta performando molto, molto bene. Un'altra cosa che volevo farvi vedere, che abbiamo imparato anche l'altra volta, ho fatto vedere il video. In questa zona qui, quindi da settembre, dopo settembre, abbiamo visto che il cut del hike rate nelle banche internazionali, come quella del Brasile, per esempio, è aumentato in confronto al hike. Quindi ci sono banche che cominciano a tagliare i tassi, più che le banche che cominciano a alzarli. E questo, ovviamente, vuol dire che noi siamo arrivati a un picco, e questo è normale, perché comunque abbiamo alzato in un anno dal 0 al 5% e passa, 5.5% in alcune banche. Invece, abbiamo visto, per esempio, l'economia cominciare piano piano a soffrire in altri paesi, ok? Come, per esempio, l'effetto del hike rate, visto che quello che hanno fatto solitamente avrebbero dovuto farlo, secondo me, in tre anni, o darsi tempo due o tre anni, in verità l'hanno fatto in un anno. Quindi, ovviamente, per vedere poi l'effetto a catena ci vorrà un po' più di tempo, nel senso, lo vedrai poi magari l'anno prossimo, l'anno dopo ancora, quindi solitamente l'effetto a catena poi rimane nell'economia. Comunque, questi sono i dati che volevo condividere con voi, fatemi sapere intanto cosa ne pensate, lasciate ovviamente un like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Per quanto riguarda invece il Nasdaq, il Nasdaq continua a salire, il Nasdaq, come ho detto, questo è il mio possibile ritesta, sono convinto che a questo punto non c'è niente che possa impedirli di andare a toccare questa zona, nel senso, è molto vicina, una zona piena di liquidità, una zona che potrebbero anche fare un fake out, quindi vedere, per esempio, un nuovo high sul settimanale qua e poi vedere magari una distribuzione, qualcosa del genere, questo potrebbe essere, bisogna vedere. Comunque, come vedete qua ce la siamo giocati bene nei long e nei short in questa zona qui, anche qui alla rottura, ritest, come vedete, queste sono tutte analisi che io mando, tutte analisi, a certe volte non mando il trade del tipo, ah devi comprare qua, però dico, ok, questo è il mio punto dove aspetto, dove ci sa, e molti l'hanno preso, moltissimi sono entrati long, stessa cosa qui alla rottura, quando ho detto per me questa è una rottura, poi continuo la rialzo, molti sono entrati long, quindi sono tutte analisi che faccio, che poi la gente può usare a vantaggio, ok? Potete anche entrare negli spot long, sono gli ETF che potete andare long o short, se volete holdare il Nasdaq, per esempio, quindi se non volete tradeare per dire, ok, no, non voglio mettere lo stock e vengo liquidato, quello che potete fare sono gli ETF che potete accumulare e poi andare long, oppure per esempio in questo caso, mentre va su, accumulare short per prendere gli short o vice versa, così. Per quanto riguarda invece, andiamo a vedere l'oro, poi andiamo a vedere Bitcoin, per quanto riguarda l'oro, vediamo che l'oro continua a performare alla grande. Allora, l'oro intanto, non so perché qua non c'è la mia analisi, fatemi vedere un attimo la cosa. Ok, ecco qua la mia analisi dell'oro, ce l'ho sul chart nero, non su quello bianco, so che vi piace di più quello chart nero, però per il momento vediamo su quello bianco, poi cerco di esportarla su quello nero. Allora, per il momento l'oro come vedete è arrivato nella zona di buy, queste due sono la mia zona di buy, una, due, queste qui. E l'oro l'abbiamo tradeato molto bene anche l'anno scorso, abbiamo preso le zone, questo triple bottom per esempio, un, due, tre, qui siamo entrati alla rottura, abbiamo preso questo, abbiamo preso le teste in questa zona double bottom, come vedete tende a fare questi double bottom, ok? Ha fatto poi questo channel in cui è andato a ritestare questa zona dove siamo entrati in buy, poi come vedete, boom, è andato su, ritestato, quindi ha creato un supporto in quest'area, quindi qui c'è un supporto come vedete, quindi rottura della flag, come vedete, o del channel, perché comunque è troppo lunga presso una flag, rottura, ritest della zona di rottura e poi continuazione rialzo, quindi sta avvicinando in una zona abbastanza comunque critica per i buyers, nel senso che i seller sono posizionati in questa zona qui, c'è molta liquidità per i sellers, quindi bisogna vedere se riesce uscire dalla situazione del Wyckoff, che a mio parere è una Wyckoff accumulation sicuramente, secondo me è una zona di accumulo e come vedete il mio target a lungo termine nella zona dei 2,5, come vedete non sono grandi cose, nel senso se investite sono 18%, non è una criptovaluta o una meme coin, quindi non è che diventate milionari, però ovviamente se avete un portfolio che volete mantenere il più conservativo possibile, sicuramente l'oro è una di quelle cose che vi aiutano a proteggere il portfolio e a tenerlo stabile, quindi è un combattimento, diciamo che è un modo per combattere l'inflazione, come dicono sempre, però senza mettere il tuo portfolio a rischio, nel senso comunque è uno dei motivi per cui ancora, come ho detto, Bitcoin può diventare in futuro solo quando si stabilizzerà oro digitale, come lo chiamano, ma non è al momento così perché non rappresenta le caratteristiche dell'oro digitale, nel senso comunque non è così, è troppo volatile e solitamente l'oro deve contrastare da una parte l'inflazione, quindi se è un'inflazione del 5-10%, durante gli anni in compounding devi continuare a contrastare questa inflazione, dall'altra deve comunque proteggere il tuo wallet e non far sì che il tuo wallet scenda del 40% o del 30%, quindi questo solitamente è lo scopo dell'oro, accumulare. Poi ovviamente l'oro se uno lo accumula sul cucuzzo della montagna può scendere, anche lui comunque nei momenti in cui scende tanto, per esempio da qui a qui, come vedete è sceso di un 44%, comunque qua, come vedete eravamo comunque in un estremo, quindi anche lui c'è i suoi estremi, però solitamente se andate a vedere durante gli anni tende a, come vedete qui per esempio, a creare queste zone, queste zone qui che comunque hanno un'oscillazione abbastanza buona, in senso comunque come vedete qua il suo grafico, se andate a vedere negli anni, è solitamente upside, quindi se uno avesse sempre preso, come vedete, è comunque sempre in upside, invece alcuni grafici, per esempio qualunque criptovaluto o anche stock, i loro grafici solitamente sono così a lungo termine, anche se per esempio possiamo anche vedere BTC per esempio, perché così la gente vede anche cosa intendo dire, se andate a vedere per esempio BTC, come vedete il suo grafico è in alto, ha fatto un double bottom, è sceso giù, è andato su, qua come vedete è andato su, è andato giù, è andato su, quindi ha delle oscillazioni molto alte nel breve termine, ovviamente questo è scala logaritmica, quindi è anche buono con il prezzo, come vedete, questo ovviamente, questo è il pericolo ovviamente di BTC, ed è il pericolo ovviamente di tenere il tuo portfoglio solo BTC, invece come vedete l'oro, più o meno, anche se c'è dei periodi di oscillazione molto forti, però il suo trend in generale è sempre rimasto a rialzo, come vedete, è sempre rimasto a rialzo e non ha per esempio dei nuovi low, quindi non ha mai fatto nuovi low, quindi non ha mai rotto questo nuovo low, non ha mai rotto questo nuovo low, vedete qui anche qua, non ha mai rotto questo nuovo low, non rompe questo nuovo low, quindi come vedete è sempre a rialzo in un modo o nell'altro, poi ovviamente se sei bravo nell'analisi tecnica ovviamente non vai a comprare qui, oppure se compri qui sai già che devi pareggiare qui la tua entrata e mediarla, comunque questo solitamente l'oro a cosa serve, per questo che si dice che l'oro è al momento una delle cose, poi non lo dico io, gli arabi, i cinesi, tutta questa gente accumula oro da sempre per proteggersi dall'inflazione, dalla vita, per diventare, poi ti fa anche arricchire, in un certo senso preserva, fa preservare la tua ricchezza, quindi riesci a preservare la tua ricchezza a lungo termine, quindi per quanto riguarda l'oro, ovviamente come vedete continua a performare, secondo me prima o poi arriverà in questa zona dei 2000 qualcosa, c'è sicuramente un po' di turbolenza, come ho detto finché non esce da qui, le possibilità che scenda qua giù sono ancora comunque in gioco, perché comunque finché non rompe questa zona, può tornare su e può tornare giù, quindi ha un'oscillazione in quest'area, questo è sicuro, nessuno l'ha mai negato, come vedete noi cerchiamo prendere sempre il bottom della zona di accumulo, quindi anche se abbiamo un box di accumulo cerchiamo sempre di prendere la zona di bottom, anche se comunque prendendo la zona di top avresti comunque una buona entrata, però noi cerchiamo di massimizzare l'entrata, sempre, sempre. Per quanto riguarda invece BTC, BTC in questo momento, andiamo a vedere sull'alto, qua mi interessa BTC che ce li date anche qui, allora BTC come avete visto l'altro giorno ho fatto vedere praticamente questi due, ok, molto in divergenza, qua c'è la divergenza, c'è poco da dire, però la divergenza rompe e conferma solo la rottura di questo livello dei 35.568, questo è molto importante. Da un'altra prospettiva, se andiamo a vedere BTC, come vedete, siamo in una zona in questo momento, siamo in questo box, che come vedete l'RSI è comunque in divergenza, quindi statisticamente, poi le statistiche hanno dei livelli di failure, quindi di fallimento, statisticamente per me è molto più probabile che rompa rialzo, ovviamente è una probabilità, quindi vuol dire che è un 70-30, un 30 potrebbe rompere rialzo, assolutamente sì, però vedendo la situazione, vedendo questa trendline, vedendo tutto questo, sono più propenso a pensare che romperà ribasso. Il fatto che rompa rialzo però non mi interessa, comunque noi siamo long anche su molte cose, siamo short in alcune cose, quindi siamo abbastanza bilanciati in questo momento sul wallet e siamo long in alcune posizioni, quindi a me fa solo piacere se continua a salire, in senso continuo ad accumulare short e continuerò a prendere nuovi long, tutto qui, quindi come vedete in questo momento quello che mi aspetto è, quindi alle mie probabilità vanno sul fatto di tagliare intanto questa trendline, quindi far fuori questa trendline, andare qua su questa orizzonte online, farla fuori e andare a ritestare questa zona, di 31.5, qui è dove si giocherà poi la grande battaglia secondo me, perché qua come vedete è la zona in cui rompe la struttura della trendline che sta andando avanti praticamente da gennaio 2023, quindi qua secondo me è il punto più importante, se dovesse arrivare Bitcoin nei prossimi settimane, nei prossimi giorni qua, questo sarà un punto cruciale, quindi questo sarebbe un punto veramente veramente importante, abbiamo l'orizzonte online, la vertical online e questo se rompesse il ribasso così sarebbe abbastanza grave per la struttura di BTC. Come vedete a rialzo, anche se dovesse fare uno spike a rialzo, in termini di Fibonacci, sapete che io uso sempre Fibonacci, ho dimostrato più volte che Fibonacci sono un ottimo strumento per fare investimenti anche, come vedete la zona dei Golden Pocket nella zona addirittura di 50 come vedete come target o nella zona dei 42 abbiamo i 0.5, quindi questi due sicuramente sono i più difficili come Fibonacci da affrontare. Se riesce ad affrontare questi due come vedete diventa comunque un po' più bullish sicuramente ma deve cambiare struttura. Una cosa che avevo detto e che ripeto è che questo è sostenuto ancora dall'effetto ATF, ancora sostenuto dal fatto che la gente vuole vedere l'ATF, quindi visto che siamo tenuti su da una notizia mi aspetto anche che il fallimento o la vittoria di questa notizia porti volatilità nel mercato. A mio parere che siano sì o no giocheranno comunque il solito giochetto della liquidità a ribasso, nel senso se dicono sì probabilmente damperanno Bitcoin per prendere liquidità per continuare a rialzo, se dicono no perché comunque siamo tutti long, non è che devono liquidare la gente, creare liquidità così la gente che sull'open interest è short li da liquidità, così portano sul prezzo più in alto e così long riscono a fare più soldi. Quindi solitamente è un giochetto che fanno molto molto spesso. Poi per quanto riguarda invece le Allcoin, andiamo a vederne una, non ne guarderò troppo, poi farò un altro video per le Allcoin. Per quanto riguarda le Allcoin, una che sto guardando in questo momento è Dogecoin sicuramente, Dogecoin è molto bullish in questo momento, in senso comunque guardate qui ha rotto una struttura abbastanza a lungo termine in questa zona qui e se dovesse riuscire a piazzarsi in maniera consistente sul settimanale sopra il livello dei 0,84, penso che vedremo addirittura il livello 0,1 potremmo vedere, ok? Se Bitcoin rimane comunque bilanciato. Quindi Dogecoin mi piace sinceramente, non ha performato a mio parere, comunque è una meme coin alla fine, però ha un market cap molto alto, quindi fa fatica a performare anche per quello, perché il suo market cap comunque è abbastanza importante. E un'altra che volevo far vedere, sempre Hint, che ne ho parlato praticamente in maniera esaustiva, che praticamente ha preso già i nostri primi due target e sta andando per il target finale. Ovviamente molta gente è già uscita, io ho già preso maggior parte della posizione, però se dovesse toccare poi la parte qui sarebbe un'ottima vittoria, come vedete. E anche qui abbiamo usato i Fibonacci, come vedete siamo entrati nella zona sopra il 0,38, e dal nostro entry, come vedete qui, siamo su di un 64% e potremmo arrivare anche a un 80%. Quindi questi sono i più interessanti al momento. Fatevi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, cosa volete che analizzo. Ho già visto anche i commenti dell'altro video, quello di Flo, che cosa volevate che analizzo. Farò anche un video appositamente per quello più richiesto. Per il momento è tutto ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video, lasciate like, mi piace, condividetelo e ci vediamo al prossimo video. Grazie.